Ciao a tutti, eccoci qua. Non sono impazzito. Il fatto che io sia senza camicia e senza cravatta e senza anche una giacca non vuol dire che ho cambiato completamente il mio stile di vita, semplicemente volevo dare una differenza tra quando parlo e faccio formazione finanziaria e quando invece parlo di geopolitica. Altro argomento che mi piace da morire, fatevene una ragione, sentirete i gatti commentare ogni tanto sotto ma oggi vi beccate il primo pippone geopolitico. Il primo pippone geopolitico non riguarda quello che è successo in Iran quindi con la terza guerra mondiale che doveva scoppiare secondo i giornali italiani e non riguarda nemmeno il coronavirus perché in Italia ci sono già abbastanza infettivologi che ne possono parlare anzi mi sembra che ce ne siano molti di più di quelli che effettivamente sembrava ci fossero. Detto questo, mentre Maia si lamenta, parliamo dell'evento per eccellenza del 2020 ovvero le elezioni del Presidente degli Stati Uniti. Il 3 novembre del 2020, ovvero il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre se avrò tempo vi spiegherò anche perché succede il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre gli americani si andranno a votare per eleggere i grandi elettori che a loro volta si riuniranno a Washington per eleggere il Presidente degli Stati Uniti e il Vice Presidente degli Stati Uniti. Sì, l'elezione del Presidente degli Stati Uniti è un'elezione indiretta come per noi in Italia. Il Presidente della Repubblica, come previsto dalla nostra Costituzione, viene eletto dagli onorevoli e dai senatori insieme ai rappresentanti delle regioni riuniti in camere congiunte a Montecitorio se non sbaglio, sì, e avviene ogni sette anni nel nostro caso mentre negli Stati Uniti avviene ogni quattro anni ma è sempre in diretta. I partiti generalmente sono due anche se poi i candidati sono molti di più ma di solito i partiti principali sono due, il Partito Repubblicano e il Partito Democratico. Il Partito Repubblicano ha già il suo candidato che è Donaldo ovvero Donald Trump come lo chiama Federico Lampini e Donald Trump si presenterà come candidato al Partito Repubblicano appunto e contro di lui invece andrà un candidato del Partito Democratico che verrà scelto tramite le cosiddette elezioni primarie ovvero una serie anche qui di rappresentanti che vengono nominati nei vari Stati che poi si riuniranno alla Convention del Partito Democratico e nomineranno in quella sede il candidato che andrà contro Trump. Il numero di rappresentanti sono in funzione di ogni singolo Stato. Oggi, il 3 febbraio 2020, quando sto registrando cominciano le elezioni primarie in Iowa. In Iowa in realtà non sono delle vere e proprie primarie dove vanno a votare generalmente solo gli iscritti al Partito Democratico bensì i cosiddetti caucus dove tutti praticamente possono andare a votare praticamente anche uno che è magari un tradizionale elettore del Partito Repubblicano potrebbe andare a votare. Quali sono i candidati principali? Diciamo tre, poi c'è anche un fuori gioco direi, un giocatore un po' sopra le righe ma cominciamo a nominare questi tre candidati. Il primo è Bernie Sanders che è quello che ha tenuto un po' sulle spine Hillary Clinton ancora quattro anni fa. Ha una visione un po' più a sinistra rispetto a Hillary Clinton che è una liberal mentre Bernie Sanders tende un po' più quasi al socialismo ad un certo punto di vista. Poi c'è la sua, diciamo la sua allieva prediletta che è Elizabeth Warren donna, molto dinamica, entrambi hanno un grandissimo appeal soprattutto sui ragazzi giovani. Dobbiamo tenere conto di una cosa, in America gli ragazzi giovani, millennials sono la prima generazione che non sta meglio della generazione che l'ha preceduto per cui diciamo che c'è una nuova generazione di votanti che comincia a essere un po' incavolata nei confronti di quello che può essere considerato l'uomo fatto da se stesso e lo Stato che praticamente regola solo alcuni elementi mentre nel resto ti devi arrangiare in primis l'eterno dilemma della sanità che come sappiamo negli Stati Uniti non è pubblica e non è gestita dallo Stato. Infine abbiamo il terzo giocatore che è Joe Biden che è stato il vicepresidente di Barack Obama anche lui si è la settantina e effettivamente messo fuori gioco un po' dai problemi in Ucraina che hanno comportato anche la fase di impeachment per il nostro amico Donaldo. C'è comunque un giocatore fuori dal coro questo giocatore fuori dal coro si chiama Michael Bloomberg Michael Bloomberg Michael Bloomberg altra non era che è stato il sindaco di New York sindaco di New York New York è una città molto particolare perché alle elezioni presidenziali vota democratico però quasi sempre il suo sindaco un repubblicano lo è stato Rudolf Giuliani e lo è stato anche Michael Bloomberg che fu appunto sindaco subito dopo l'11 settembre sindaco che ha fatto fiorire ancora di più e rifiorire New York molto amato anche dai democratici ma un repubblicano a tutti gli effetti ha deciso di utilizzare un miliardo dei suoi risparmi personali per fare una campagna elettorale con il partito democratico cioè lui ha detto io mi presento alle primarie del partito democratico anche se sono un repubblicano per andare contro Trump allora teniamo conto una cosa Trump ha sempre vissuto New York anche se va a giocare a golf in Florida però lui è stato un new yorkese se voi andate a New York c'è Trump questo Trump quello, Trump Tower c'è tutto quanto col nome Trump che gira per New York per cui sicuramente un po' il dente avvelenato per affari loro c'era sicuramente Bloomberg diciamocelo fuori dei denti ad ogni modo lui ha detto io corro con i democratici ci metto un miliardo di dollari se vinco le primarie se non vinco le primarie quel miliardo di dollari li darò al vincitore delle primarie del partito democratico praticamente ha detto io do un miliardo di dollari in donazione al partito democratico per cercare di battere Donald Trump quindi direi che la dialettica all'interno degli Stati Uniti è ancora completamente aperta è vero che Trump in questo momento sta portando un'economia molto fiorente che sta molto bene sulla carta degli Stati Uniti hanno una ripresa economica bella fiorente e soprattutto c'è un commercio che va alla grande addirittura adesso si è inventato di voler sistemare i problemi in Medio Oriente sarebbe, guardate ragazzi, sarebbe in colmo vedere Trump vincere il Nobel per la pace perché mette a posto Israele e Palestina io la vedo veramente dura però ci sta provando anche lui come tutti i presidenti degli Stati Uniti ci hanno provato bisogna ammettere che anche dal punto di vista della politica estera ci sa fare perché sostanzialmente forse una cosa che non si è capita molto bene di Trump Trump non è un guerra fondaio non è uno che vuole fare le guerre lui le guerre le vuole chiudere perché fanno spendere soldi inutilmente non ha questioni etiche sia chiaro perché gli Stati Uniti hanno un esercito di volontari per cui nel momento in cui uno va a lavorare in esercito sa che ci può lasciare le penne diciamocelo fuori dei denti sono molto chiari e lampanti gli Stati Uniti da questo punto di vista quindi non è una questione etica lui vuole proprio chiudere le guerre perché costano e anche perché ha una logica che è quasi simile permettetemi agli isolazionisti pre-prima guerra mondiale quelli che non volevano entrare nella guerra europea anche perché diciamoci una cosa gli Stati Uniti le varie guerre che hanno cominciato dopo l'11 settembre sono state più che altro per l'energia diciamocelo adesso dal punto di vista energetico sono praticamente indipendenti e possono sicuramente addirittura cercano di venderci il loro gas per cui pensiamoci un attimo possono tranquillamente fregassene del Medio Oriente dell'Iran, dell'Iraq l'unica cosa che gli può interessare è il controllo dello stretto di Hormuz quel pezzetto di terra dove sotto c'è praticamente Dubai dei Emirati Arabi e sopra c'è l'Iran che è un pezzetto molto ridotto del fuori dal Golfo dove transitano tutte le petroliere e probabilmente il controllo dello stretto di Hormuz potrebbe essere interessante anche per evitare che arrivi troppo petrolio al primo concorrente in assoluto degli Stati Uniti che è la Cina ecco che abbiamo detto il grande nome non andiamo oltre perché altrimenti mi parte veramente di brutto l'embolo e non ho voglia di mettermi a parlare delle cose di cui tutti purtroppo stanno parlando quindi detto questo abbiamo finito con il primo pippone macroeconomico geopolitico e chi più ne ha più ne metta in cui parlo a ruota libera se ce la fate ad ascoltarmi fino in fondo benvenuti in questo nuovo mondo ci vediamo ciao a tutti e grazie per avermi ascoltato